Il cane lupo cecoslovacco, una razza canina intrigante e maestosa, incarna l'eleganza selvaggia e l'intelligenza impavida. Prima di iniziare, ricorda di iscriverti al canale e mettere like al video. Derivante dalla sua storia unica, questa razza è il risultato di un incrocio avvenuto negli anni 50 tra il pastore tedesco e il lupo dei Carpazzi, creando un cane con caratteristiche uniche e distintive. Aspetto impressionante, il cane lupo cecoslovacco è noto per la sua bellezza selvaggia. Con una struttura fisica potente e un mantello spesso, questi cani sono spesso scelti per la loro somiglianza con i lupi. Il colore del mantello può variare dal grigio al giallo rossastro, evidenziando la loro diversità estetica. Intelligenza e addestrabilità Questi cani sono noti per la loro intelligenza e versatilità nell'addestramento. Grazie alle loro radici da lupo, possiedono un istinto di difesa pronunciato e una naturale predisposizione all'addestramento. Sono adatti per attività come l'agility, il tracking e la protezione. Temperamento Affettuoso Nonostante la loro aura selvaggia, i cani lupi cecoslovacchi sono noti per il loro attaccamento al proprio branco umano. Sono affettuosi e protettivi, facendo di loro ottimi compagni per famiglie che apprezzano la presenza di un cane fedele e vigile. Esercizio e attività Essendo una razza vigorosa, il cane lupo cecoslovacco richiede un'adeguata quantità di esercizio giornaliero. Le attività all'aperto, come lunghe passeggiate, jogging e giochi interattivi, sono essenziali per mantenere il suo benessere fisico e mentale. Cura del mantello e della salute La manutenzione del mantello richiede attenzione regolare, con spazzolature per prevenire nodi e mantenerlo in condizioni ottimali. Dal punto di vista della salute, sono generalmente robusti, ma la prevenzione e la cura precoce sono fondamentali per garantire una vita lunga e sana. Il cane lupo cecoslovacco, con la sua natura robusta e l'origine da lupi dei carpazzi, richiede un'attenzione particolare all'alimentazione per garantire una salute ottimale. Ecco alcuni consigli cruciali per mantenere una dieta bilanciata per questa straordinaria razza. Proteine di qualità Il cane lupo cecoslovacco, con la sua struttura muscolare maestosa, necessita di una fonte di proteine di alta qualità. Optare per alimenti contenenti carne magra, pesce e uova contribuirà a mantenere la sua forza e vitalità. Carboidrati Moderati Mentre i carboidrati forniscono energia essenziale, è importante mantenerne il bilancio. Optare per carboidrati integrali come riso integrale e patate dolci può contribuire a mantenere un livello di energia stabile. Grassi Salutari I grassi sono fondamentali per la salute della pelle e del mantello. Introdurre fonti di grassi salutari, come olio di pesce e olio di cocco, può migliorare la lucentezza del mantello e sostenere la salute generale. Monitoraggio delle porzioni Il cane lupo cecoslovacco ha un metabolismo attivo, ma è importante monitorare attentamente le porzioni. Adattare la quantità di cibo in base all'età, al livello di attività e alle condizioni fisiche è fondamentale per prevenire sovrappeso o sottopeso. Attenzione alle allergie alimentari Questa razza può essere sensibile a allergie alimentari. Osservare attentamente le reazioni avverse e, se necessario, consultare il veterinario per determinare eventuali intolleranze alimentari. Problematiche di salute comuni Il cane lupo cecoslovacco può essere predisposto a problemi ortopedici come la displasia dell'anca. Mantenere un peso corporeo sano attraverso l'alimentazione può contribuire a ridurre il rischio di tali problemi. Inoltre, monitorare la salute dentale è cruciale, poiché questa razza potrebbe essere suscettibile a problemi dentali. Introdurre cibi che promuovano la masticazione può sostenere la salute orale. Ricorda, ogni cane è un individuo con esigenze uniche. Consultare il veterinario per creare un piano alimentare personalizzato è sempre consigliato per garantire che il tuo cane lupo cecoslovacco riceva la nutrizione adeguata per una vita lunga e sana. Considerazioni finali Il cane lupo cecoslovacco è una razza che affascina per la sua bellezza, intelligenza e fedeltà. Tuttavia, è importante notare che questa razza richiede un proprietario impegnato, disposto a soddisfare le sue esigenze fisiche ed emotive. Con amore, attenzione e un ambiente adatto, il cane lupo cecoslovacco si rivelerà un compagno straordinario e leale. Se stai cercando un amico che unisca la selvatichezza del lupo alla fedeltà del cane, questa potrebbe essere la razza perfetta per te. Il cane lupo cecoslovacco è una razza canina affascinante, caratterizzata da una combinazione di forza, eleganza e intelligenza. Ecco alcune delle sue principali caratteristiche. Questa razza si distingue per la sua somiglianza al lupo, con una figura maestosa, orecchie erette e un mantello spesso. Il colore del pelo varia da grigio a giallo rossastro, contribuendo alla sua aura selvaggia. Il cane lupo cecoslovacco è noto per la sua intelligenza acuta. Questa caratteristica lo rende altamente addestrabile e versatile in varie attività, come l'agility e il trekking. Questi cani sono innatamente protettivi del loro branco umano, sono leali, affettuosi e possono sviluppare forti legami con i membri della famiglia. Data la sua origine da lupi selvatici, questa razza ha bisogno di una quantità significativa di esercizio quotidiano. Lunghe passeggiate, attività all'aperto e giochi interattivi sono essenziali per soddisfare il suo bisogno di movimento. Grazie alla sua intelligenza e al suo istinto di difesa, il cane lupo cecoslovacco eccelle in varie attività, inclusi sport canini e attività di addestramento avanzate. Il mantello spesso richiede attenzioni regolari. Spazzolature periodiche sono essenziali per prevenire nodi e mantenerlo in buone condizioni. Questi cani prosperano sotto una leadership sicura e coerente. Un proprietario stabile e impegnato è fondamentale per il loro benessere e comportamento equilibrato. Dotato di un istinto di difesa pronunciato, il cane lupo cecoslovacco è naturalmente vigile e può essere un eccellente cane da guardia. In sintesi, il cane lupo cecoslovacco è una razza straordinaria per chi è disposto a investire tempo, attenzione e amore in un compagno fedele. La sua bellezza, combinata con intelligenza e lealtà, lo rende un cane affascinante e coinvolgente per coloro che apprezzano la sua natura unica. La scelta di un cane lupo cecoslovacco richiede una valutazione attenta, poiché questa razza ha caratteristiche uniche che possono non adattarsi a tutti. Ecco alcuni consigli da considerare prima di optare per questa affascinante razza. Esperienza con cani di taglia grande. Il cane lupo cecoslovacco è una razza di taglia grande e richiede proprietari con esperienza nella gestione di cani di questa stazza. Se sei un principiante, potrebbe essere utile iniziare con una razza più facile da gestire. Impegno all'esercizio. Questa razza ha un notevole bisogno di esercizio quotidiano. Se sei una persona attiva, amante delle attività all'aperto e disposta a dedicare tempo a lunghe passeggiate e giochi, questa razza potrebbe adattarsi al tuo stile di vita. Leadership stabile. Il cane lupo cecoslovacco ha bisogno di una leadership sicura e coerente. Se sei in grado di stabilire te stesso come il capo del branco, avrai una relazione più armoniosa con il tuo cane. Dedizione all'addestramento. Data la loro intelligenza, questi cani rispondono bene all'addestramento. Tuttavia, richiedono una formazione positiva e coerente. La dedizione all'addestramento è fondamentale per garantire un comportamento equilibrato. Ambiente adeguato. Il cane lupo cecoslovacco può adattarsi sia a spazi esterni che interni, ma è importante fornire un ambiente stimolante e sicuro. Un cortile recintato è consigliato per permettere loro di esercitarsi in sicurezza. Famiglie attive e consapevoli. Questa razza può essere adatta a famiglie attive e consapevoli delle esigenze di un cane di grandi dimensioni. Tuttavia, è importante che i bambini siano educati su come interagire in modo rispettoso con il cane. In sintesi, il cane lupo cecoslovacco è adatto a individui o famiglie che apprezzano la bellezza selvaggia e sono pronti a investire tempo ed energia nella cura e nell'addestramento di questa razza unica. Con l'impegno giusto, il cane lupo cecoslovacco può diventare un compagno leale e affettuoso. Speriamo che stiate apprezzando il nostro contenuto dedicato al meraviglioso mondo dei cani. Se state sorridendo, imparando qualcosa di nuovo o condividendo le stesse passioni che ci guidano, vi invitiamo calorosamente a fare due piccole azioni che significano molto per noi. Premete il pulsante del mi piace se avete apprezzato il video. è un modo semplice per farci sapere che siete con noi e che vi piace ciò che condividiamo. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale. Sarà come accogliere un nuovo amico nel nostro branco virtuale. Iscrivendovi, non perderete mai i nostri futuri video dedicati a cani adorabili, consigli utili e storie emozionanti. Grazie di cuore per il vostro sostegno continuo. Ogni like e iscrizione ci spinge a creare contenuti sempre migliori. Condividiamo l'amore per i cani e siamo entusiasti di avere voi nel nostro Zampa TV Family. Grazie a tutti.